Voci.fm, il sito delle voci. Un giorno dico a mia moglie, oh lo sai mi hanno chiamato da Roma per andare a fare un doppiaggio per un film. Le dice, quale film? E il nuovo film firmato da James Cameron, quello di Avatar. E tu che ciazzecchi con un film di Cameron che sarà un colossal, no? Che ciazzecco, me lo chiedevo anch'io, poi ho scoperto c'è dentro una cosa dove la mia figura di telecronista sportivo un ruolo ce l'ha. Però in un contesto che è, come potete immaginare, essendo un film di Cameron, spettacolare. Pertetti ai vostri posti, ed ecco l'esordiente. Alita! Dallo sport al doppiaggio è un attimo. Guido Meda, vice direttore di Sky Sport e voce storica della MotoGP, con la quale dà vita ad accese e concitate telecronache dei più grandi eventi di motociclismo. In quanto a parlantina, beh, è messo bene. Il microfono lo conosce e in fin dei conti resta nel suo campo, o meglio, nel suo circuito, anche se passa dal piccolo al grande schermo. Diretto da Fiamma Izzo, doppia infatti il commentatore delle gare di Motorball e il motociclismo del futuro in Alita, angelo della battaglia. Filmone tecnologico e cyberpunk prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez, appena uscito in sala con 20th Century Fox. Com'è l'esperienza nello studio di doppiaggio per uno che non fa il doppiatore? È tutta un'altra storia, cioè è vero che io lavoro di norma con una cuffia, due cuffie e un microfono, però lì vado all'impronta, racconto quello che sta succedendo, racconto quello che vedo. Quando vai in un doppiaggio hai un recinto stretto nel quale devi stare, hai una direttrice del doppiaggio che ti fa capire che questo è proprio tutto un altro mestiere, però è affascinantissimo. La protagonista Alita, che molti di voi probabilmente già conoscono per la sua storia di personaggio manga, è una figura di cui secondo me è facile innamorarsi. Io l'ho vista un po' in questa sala di doppiaggio. Alita è un cyborg, è una donna lievemente trasfigurata dalle tecnologie del futuro, ma incarna un ideale di donna che corrisponde a quello che piace a me e che secondo me piace e piacerà a tutti. Tratto dall'omonimo manga del 1991 di Yukito Kishiro, Alita, angelo della battaglia, racconta della giovane cyborg trovata tra i rottami e rimessa a nuovo dal dottor Daisuke Ido. Lei non ricorda nulla se non le arti marziali e si trasforma in una spietata cacciatrice di taglie. Così assieme alle voci di doppiatori professionisti, molti dei quali amici di Voci.fm, tra cui Joyce Altarelli che doppia Rosa Salazar, cioè Alita, Stefano Benassi, voce italiana di Christoph Waltz, cioè il dottor Daisuke Ido, Giupizzo, Christian Jansante, Flavia Quilone, Alex Polidori, Domitila D'Amico, Francesco Prando e molti altri, troviamo anche quella di Guido Meda. Non è la primissima volta però che si cimenta nel doppiaggio. Nel 2017 prestò infatti la sua voce a Luigi, la raffreddata guida turistica di Topolino e gli amici del rally, tanto per restare in tema. Serie TV Disney trasmessa da Disney Junior e Rai Oio. Grazie Paperina ma il mio vero problema è un altro. In queste condizioni oggi non posso accompagnare un gruppo in un tour di Roma e per giunta uno dei turisti e niente meno che Robby Roberts. A quanto pare dunque sport e doppiaggio vanno d'accordo, anche perché dire il vero non è la prima volta in assoluto. A far parlare i commentatori di gara in cars, ricordate, sono infatti Gianfranco Mazzoni e Ivan Capelli di Rai Sport. Siamo vicino al mare qui alla Florida International Speedway per dare il via ad una nuova stagione della Piston Cup. Incredibile! McQueen perde terreno! McQueen perde terreno a vista doppio! Senza dimenticare l'ex notatore Massimiliano Rosolino, passato dallo sport allo spettacolo e doppiatore con la guida di Carlo Valli del Pesce Luna in Alla ricerca di Dori. Oh, vado a dove vai! Perfetto, questo va abbastanza, non è... C'è sicura la gestualità, non è cattata, la gestualità non si vede. Chi lavora con la voce è su voci.fm Scarica l'app di voci.fm gratis su App Store e Google Play. Grazie a tutti.